Musica No davvero Perché vogliono ritornare a scuola e non capiscono perché si devono fermare Al primo, io già lo immaginavo, si può organizzare, ci vediamo La situazione emergenziale in questo momento in Italia sia seria, reale E quindi tutto quello che abbiamo a fare è assolutamente nel rispetto Sogno, auguro e voglio di tutto E va, che vi vai di tutto Grazie 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 Grazie